carissimi amici ogni tanto ho bisogno di aggiornarvi nelle evoluzioni nei miei percorsi sia di lavoro e sia di vacanza in questo momento sono arrivato da circa mezz'ora dall'isola di guait a malta mi ha dato un passaggio con un jet il mio nuovo importatore appunto l'isola di guait jesui antonio ragnieri io sono antonio ragnieri boatbuilder numero uno del board ragnieri antonio l'original adesso e lo dico in dialetto calabresi cari amici calabresi e desiderato mi riuscite tutti posso a malta arrivare circa una ora proveniente dall'isola di guait posso a malta e mi passo una giornata o cerco ciao parlo con l'importatore e malta caro toruzzo e caro intorno avevo supporti purtroppo si sa parli ma ho saputo parliate dicete pure voi una cosa ma sai che non vi sento voglio voglio vi sento facetemi questa cortesia troppo in silenzio state non capisco perché una volta nemmeno amici quanta vecchia città coltivazione dei serpenti passi molti amici dai chiamatemi per cuore allora adesso sono ripeto fa a malta farò un'altra diretta appena arriva il mio importatore che lui parlerà poi la lingua maltese e la lingua anche inglese e spiegherà i rapporti che ci sono da circa trent'anni vi spiegherà in inglese e poi io lo farò in italiano cosa abbiamo fatto cosa stiamo facendo e cosa facciamo per questa bellissima nazione il tempo oggi è bellissimo ci sono 28 gradi mi viene voglia di farmi un bel bagno non so se farò il bagno oggi ma penso penso di no perché gli impegni di lavoro sono tanti poi oggi a sorpresa mi hanno convocato mi hanno convocato non so se facciamo cavaliere e poi imparerà ad andare a cavallo ma non ho tempo di andare a cavallo vanno gli altri a cavallo comunque ci vediamo oggi e vediamo un attimo da fare ma cari amici vi saluto e quando prima vado in diretta vi comunico vi comunico con seguità diretta in questo momento vi saluto e ne sentimo tutti tardi ciao 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 ciao